Uno dei punti di forza di Dottor V, soprattutto negli ultimi anni, è la sua musica. Molte sono state le incarnazioni del Dottore ed ognuna di esse appartiene a una colonna sonora. Questa che state sentendo è l'ottava parte della suite numero 2 in C minore o Badinerie di Johan Sebastian Bach. Si sente nel primo episodio del serial Power of Crawl, dove un gruppo di lavoratori di una raffineria di metano alla ricerca del Dottore e dove, ad un certo punto, un gruppo di residenti locale rapiscono la romana e il Dottore viene tramortito da un colpo di fucile. La particolarità di questa melodia è che il Dottore, mentre tutto ciò accade, la suona con un flauto ricavato da una canna di bambù e non si accorge di niente, se non, naturalmente, del colpo di fucile. Grazie